Il corpo senza vita era stato ritrovato il 1 marzo a San Giovanni Valdarno, lungo la strada regionale 69 all'altezza del quartiere Bani. L'uomo era senza documenti, ma i carabinieri erano comunque riusciti ad identificarlo. Si trattava di un clochard di 60 anni. Adesso i militari hanno accertato che a causare la morte fu un pirata della strada, che dopo aver travolto ed ucciso il senza tetto, aveva nascosto ed incendiato la sua automobile. I militari dell'arma, a conclusione di un'articolata attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Arezzo, sono infatti riusciti a ricostruire che quella notte il pirata della strada aveva trascorso una serata in compagnia, in un locale di loro ciuffenna, e proprio durante il tragitto di ritorno sarebbe avvenuto il fatale impatto. Dopo essersi accorto dell'accaduto, invece di fermarsi per soccorrere la vittima, l'investitore si era però dato alla fuga senza una meta. Alla fine aveva abbandonato l'auto in aperta campagna ed era tornato a casa a piedi. Il giorno dopo era poi tornato sul posto per dar fuoco alla vettura una Fiat 500, risultata completamente arsa tranne la targa anteriore. L'uomo infine si era recato presso la stazione dei carabinieri di San Giovanni Valdarno per denunciare il furto dell'auto, un racconto che però aveva subito dessato sospetto nei militari che nel frattempo avevano già passato al setaccio tutte le telecamere della zona, acquisendo i primi elementi utili che hanno poi permesso di concentrare i sospetti proprio sul proprietario dell'automobile data alle fiamme. Il 31 marzo i carabinieri così hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'uomo che alla vista dei militari non ha retto più e ha raccontato tutto. L'uomo adesso ha indagato il stato di libertà per i reati di omicidio stradale e è aggravato dalla fuga, incendio con l'aggravante deve aver cercato di inquinare e distruggere le prove ed infine simulazione di reato in relazione alla falsa denuncia di furto.